Sulla gestione dell'emergenza Covid nella nostra regione il MoVimento 5 Stelle pone 5 domande al Presidente Marsiglio, partendo proprio dall'emergenza sanitaria ma parlando anche poi di sociale ed economia. Perché queste 5 domande? Perché l'Abruzzo è in profondo rosso e cioè è la regione che di fatto, a parte qualche piccola interruzione, è in zona rossa da novembre ad oggi, per cui evidentemente qualcosa non funziona nella gestione della pandemia regionale. Il Presidente Marsiglio si adopera per attribuire le colpe al Governo nazionale, ma se regioni a noi limitrofe, penso a Lazio, non hanno passato un giorno in zona rossa e l'Abruzzo invece, nonostante gli screening di massa, è in zona rossa di fatto da novembre, evidentemente qualcosa non sta funzionando. Cosa in particolare non vi ha convinto in questa gestione dell'emergenza? Sì, intanto appunto gli screening di massa e cioè vengono effettuati screening di massa con i test rapidi, non con i test molecolari, test rapidi che sappiamo dare molti falsi positivi, ma soprattutto molti falsi negativi. Non si sta facendo una campagna di informazione per dire alle persone che si sottopongono al test e che sono negative, che quel dato potrebbe essere anche sbagliato, che potrebbero essere asintomatici positivi. E questo ci fa pensare, visto che comunque le persone continuano ad ammalarsi, i contagi crescono, le terapie intensive sono sempre più sature, che evidentemente non è stata fatta questa campagna. Oltre a questo c'è la parte economica della gestione Covid e cioè i 60 milioni di euro che il Regione Abruzzo ha ottenuto dal Governo nazionale per implementare le infrastrutture e per l'assunzione di personale, dove sono finiti? Visto che le infrastrutture non sono state migliorate e che gli ospedali sono sempre al collasso, soprattutto le terapie intensive. Altra domanda, è passato quasi un anno dall'approvazione del Cura Abruzzo 1, 46 mila imprese hanno fatto richiesta di questo contributo regionale, soltanto 11 mila hanno ottenuto il pagamento. Quando intenderà il Presidente Marsilio pagare queste imprese? Come da ultimo quando pubblicherà un calendario delle vaccinazioni?